Disney Junior presenta i magici momenti di Dottoressa Peluche Quando Leilani pensa di non poter più ballare l'aula al sole, si nasconde in un posto freddo. Dotti la ritroverà. Ehi, è Nevi! Va tutto bene? Ciao Dotti! Abbiamo un visitatore alla palla di vetro e penso che abbia bisogno del tuo aiuto. Chi è il giocattolo? Oh, aspetta, l'ho dimenticato. Ha un nome molto carino. Oh, è Leilani! Che cosa? Quella bambolina non è fatta per il freddo. Arriviamo subito. Oh, ecco i pupazzini! Guppa, Guppa! Guppa, Guppa, Guppa! Ciao Dotti! Ciao Nevi, dov'è Leilani? Leilani! Oh, ciao Dotti! Che cosa ci fai qui? Sì, abbiamo il pezzo di ricambio per il ginocchio. Potrai tornare a danzare. Non ha più importanza, Dotti. Che vuoi dire? Che senso ha poter danzare l'aula se non posso danzare l'aula al sole? Oh, Leilani, non volevo dire che non saresti più potuta uscire fuori al sole. Devi solo fare attenzione quando lo farai. Posso tornare a danzare fuori? È sempre importante indossare un cappello, occhiali da sole e protezione quando stai fuori per molto tempo. E fare delle pause all'ombra per evitare di riscaldarti troppo. Inoltre, io mi assicuro sempre di avere dell'acqua fredda da bere. Posso continuare a danzare l'aula in spiaggia e ai luau? Ma certo! Oh, stavo per dimenticarlo. Avrai bisogno di questa se guiderai l'aula. Oh, grazie, Dotti. Ali, riportiamo la paziente in ospedale e prepariamola per l'operazione. Oh, sì! Perfetto! Allora, com'è andata l'operazione? Davvero bene! Abbiamo sostituito le parti del ginocchio con successo. Perché non fai tu stessa una prova? D'accordo. Piano e con calma, zuccherino. Guardate! Posso danzare l'aula! Sei magnifica! Oh, sei bellissima! Penso che sia ora di tornare tutti all'uau. Vai con la musica! Ballate tutti l'aula per la felicità del vostro cuore, perché faremo presto una pausa all'ombra. Come sta il ginocchio? Benissimo! E non provo neanche più nostalgia di casa. Mahalo, Dotti. Mahà... che cosa? Mahalo, draghetto. Significa grazie in hawaiano. Puoi ripeterlo di nuovo? Mahalo. Dotti ha insegnato a Leilani come divertirsi al sole in sicurezza e ha riportato la gioia nella sua aula. Continua a seguire i magici momenti e continua a guardare Dottoressa Peluche su Disney Junior. Tocca lo schermo per vedere altri video e segui Disney Junior per i tuoi programmi preferiti. Dotti che schermo per te. Viac Shadow Jedi. Don. direlli canale. Dotti che cei pasite gli unit실 di wrappeda Per be tourists noi, assinccolo a compensati. O actually. La tua vita.